Nel tuo ultimo libro, con in bocca il sapore del mondo, nell'introduzione tu dici la vita dei poeti somiglia a quella delle farfalle, hanno gli stessi traffici con l'effimero, la solitudine e la bellezza. Questo è un libro che parla di poesia perché tu fai rivivere dieci poeti, tre più grandi del Novecento e appunto li paragoni un po' alle farfalle, questi traffici con l'effimero. Io credo che i poeti abbiano molto in comune con le farfalle, un po' perché come le farfalle hanno a che fare con la bellezza ma anche con l'effimero, con la brevità, con la fragilità. Le loro vite, Roberto Bolagno diceva che le vite dei poeti sono smisurate e rischiose. Ed è vero, anche quelle nelle quali non accade nulla o accade poco, sono piene di tensione. Perché un poeta, quando è davvero un poeta, un grande poeta, in ogni verso si gioca, per lui è una questione di vita o di morte o si gioca anche la ragione, è sempre sul limite dell'insania, della follia. Io volevo semplicemente raccontare il volo di questi poeti, la loro esistenza terrena e come se fossero appunto delle farfalle. E ho scoperto che forse raccontare la vita di uno scrittore è un modo per avvicinarsi alla sua opera, è un'entrata semplice ma sicuramente molto coinvolgente perché in fondo è sempre alla vita che bisogna ritornare. Aldamerini diceva che i poeti lavorano di notte e tu dici che continuano a lavorare di notte. Abbiamo dimenticato la poesia in questi tempi, però tu addirittura affidi alla poesia un compito altissimo, ovvero quello di proteggere l'umanità. I poeti sono animali notturni, senz'altro. Proteggere l'umanità perché loro proteggono e custodiscono le parole, se ne prendono cura. Io credo che loro, non sentivamo più la loro voce perché in qualche modo le loro parole erano malandrate, erano come delle scarpe bucate, non riuscivano più, bisognava rimettersi con molta pazienza e con il lavoro umile di un artigiano a risuolare le parole. Le parole sono davvero importanti. La lingua che usiamo è, se riusciamo a nominare un sentimento, noi possediamo quel sentimento e siamo in grado di provarlo. Se perdiamo il modo di chiamarlo in qualche modo, non riusciremo neanche più a provarlo. E la lingua che si usa adesso è una lingua sicuramente impoverita, sciatta. Quanto soffri tu in questi tempi? Quando senti straparlare, quando senti pronunciare delle parole anche senza magari ricapirne l'importanza. Tu dici che bisogna prendersene cura delle parole, ma come si fa? Io soffro sempre, soffro anche adesso che parlo perché vorrei parlare meglio, vorrei usare le parole giuste perché io sento questa necessità di esattezza, anche le parole sono piene di sfumature. La lingua italiana è come il vestito di Arlecchino, abbiamo una lingua meravigliosa, piena di migliaia di colori diversi. E dovremmo sempre cercare, altrimenti diventeremo daltonici o afasici. E questo anche nei sentimenti, e questo non deve accadere. Tu parli anche di uno sguardo dei poeti, no? E dici, metti in guardia in qualche modo, se si perde questo sguardo, cioè lo sguardo dei poeti, non sapremo più leggere il mondo e di conseguenza tutto quello che ci capita. Qual è questo sguardo dei poeti? Com'è lo sguardo dei poeti? Lo sguardo dei poeti è uno sguardo discorcio, ma è uno sguardo che non è soltanto uno sguardo, non riguarda soltanto gli occhi ma anche le orecchie. Direi quasi che per scrivere i poeti devono essere ciechi, in qualche modo, ma guardare con le orecchie, cioè ascoltare bene le parole, le voci delle persone, quello che le voci nascondono o trattengono, e credere ciecamente nella musicalità delle persone, degli esseri umani, e ridare anche alla musica, non potremmo vivere senza musica, così come non possiamo vivere senza poesia.